e che potrebbero consentire di effettuare l'analisi in frequenza però con dei limiti che abbiamo evidenziato e fra un po' richiamiamo. Ritorniamo però prima di avviarci su quello che poi è la soluzione al superamento di quei limiti ed è la soluzione attualmente ancora vivente tra i costruttori di strumentazione che è l'analizzatore di spettro a supereterodina vorrei giusto un attimo fare una rapidamente mente locale su quello che abbiamo visto ieri nel senso che noi siamo partiti dal fatto che fondamentalmente per misurare uno spettro di un segnale quello a cui siamo noi interessati in generale è alla misura dell'ampiezza delle varie componenti spettrali del segnale che in generale potrebbe avere più componenti spettrali quindi fondamentalmente tutti gli schemi e i principi che abbiamo visto in particolare l'analizzatore di spettro a banchi di filtri paralleli e quello a filtro a sintonia variabile fondamentalmente o a filtro sintonizzabile fondamentalmente mirano a fare cosa? a appunto estrarre dal segnale di ingresso il relativo spettro ovvero che significa cercare di individuare le componenti frequenziali eventualmente anche se sono vicine fra loro e per ogni componente cercare di andare a individuare l'ampiezza vi trovate? e come abbiamo detto che si riesce a fare questo? fondamentalmente ponendo in cascata sicuramente due elementi fondamentali che sono innanzitutto un filtro in generale passa a banda poi in un caso ci sono n filtri centrati tutti a frequenze diverse in un altro caso c'è un filtro di cui appunto è possibile variare la sintonia ovviamente in maniera diciamo sincronizzata con tutto il resto dello strumento ma poi dopo c'è un rivelatore di inviluppo un filtro passa a banda in generale mi consente di selezionare una componente potenzialmente solo del segnale il rivelatore di inviluppo mi permette di andarne a stimare l'ampiezza quindi di estrarre l'ampiezza e quindi grazie a questi due blocchi fondamentalmente noi tentiamo di assolvere questo compito cioè quello di individuare ampiezza e frequenza delle varie componenti spettrali detto ciò abbiamo anche però messo in evidenza come sia l'analizzatore a banchi di filtri paralleli sia quello a filtro sintonizzabile abbiano dei limiti da un punto di vista da un lato costruttivo se vogliamo garantire prestazioni tutto sommato costanti su tutto l'asse delle frequenze che si va ad indagare e se quest'asse di frequenze, questo span di analisi è abbastanza ampio come accade negli strumenti attuali è obiettivamente complicato mantenere delle prestazioni che sarebbero costanti su tutto l'asse delle frequenze che spesso va da pochi kHz fino ad arrivare anche a diversi GHz se non decine di GHz in più abbiamo detto soprattutto per quanto riguarda l'analizzatore di filtro a banchi paralleli è anche una sconvenienza da un punto di vista di costi perché ovviamente parallelizzare tutta la struttura significa ovviamente ennuplicare i blocchi e nuplicare gli elementi, complicare l'architettura complessiva e quindi ovviamente arrivare a delle soluzioni anche antieconomiche per quanto riguarda invece l'analizzatore di spettro a filtro sintonizzabile abbiamo visto che comunque si hanno problematiche a mantenere appunto un filtro passabanda che abbia delle caratteristiche in termini di resolution bandwidth sufficientemente piccola anche salendo con le frequenze e quindi fondamentalmente diciamo diventa uno strumento che può avere senso soprattutto se io devo analizzare range di frequenza molto bassi dove molto bassi intendiamo ancora una volta che partono da pochi kHz fino magari a qualche MHz qualche decina di MHz massimo il centinaio di MHz oggigiorno non sono sufficienti questi diciamo questi rangi di frequenza per ovvi motivi e quindi ovviamente questa architettura non è assolutamente diciamo implementata ovviamente avrebbe un grosso vantaggio che è un'architettura economica perché ha dei costi molto ridotti rispetto ad altre soluzioni però non è praticabile per le moderne applicazioni in più un altro aspetto che in qualche modo identificava le caratteristiche e le peculiarità sia dell'analizzatore di filtri a banchi paralleli che di quello a filtro sintonizzabile riguarda la capacità o meno di poter analizzare segnali con spettro non stazionale cioè nel caso dell'analizzatore a banco di filtri paralleli poiché di fatto l'acquisizione dello spettro diciamo la costruzione dello spettro grazie al parallelismo interno all'architettura dello strumento avviene in maniera contemporanea su tutti i rangi di frequenza e di interesse e quindi significa che nel momento in cui io ho la fotografia dello spettro è realmente la fotografia dello spettro in quell'istante e quell'istante su tutte le frequenze di interesse nel caso del filtro sintonizzabile poiché diciamo voi avete che fondamentalmente c'è un VCO che va di volta in volta a modificare la frequenza di centro banda di questo filtro per permettergli di scorrere sull'intero range di frequenze ovviamente significa che ogni pezzetto costruito sul display dello spettro dell'analizzatore di spettro in questo caso è ottenuto in istanti differenti e quindi se durante questa spazzolata si dice in gergo in frequenza se durante questa spazzolata lo spettro del segnale si è modificato fondamentalmente voi avreste uno spettro diciamo misurato e quindi visualizzato sul display che non è in grado di rappresentare in un certo istante tutto quello che accadeva su tutte le frequenze ma vi darà informazioni su quella particolare porzione di spettro che dipende dal diciamo da cosa stava facendo lo spettro del segnale in quel momento però magari sta cambiando su questo reggi di frequenze ma non qua e così via quindi fondamentalmente non avete indicazioni diciamo della troppo troppo affidabili troppo realistiche ripeto ovviamente nel caso in cui gli spettri non siano stazionali vi giusto dico un'altra cosa che fondamentalmente io queste slide che vedete oggi sono leggermente modificate rispetto a quelle che abbiamo visto ieri nel senso che ho aggiunto dei commenti per rendere un po' più esplicativi il significato di alcune cose per esempio ho aggiunto qui il fatto che appunto il generatore di rampa da un lato controlla il VCO per far creare questa variazione di di frequenza dell'oscillatore locale e quindi diciamo della frequenza di centro banda dell'IPF da un certo valore FOL min o un certo valore FL max ma allo stesso tempo genera il segnale di spazzolata sul display un po' come accade con l'oscilloscopio digitale che serve appunto per poi far avanzare diciamo la costruzione e quindi dello spettro sullo schermo dello strumento a parte questo non ho fatto grosse modifiche però era giusto per dirvi se andate su Classroom io già ho caricato la versione diciamo ovviamente modificata riprendiamo a questo punto diciamo una volta fatta questa prima ricapitolazione iniziale della diciamo di questa di questi strumenti allora andiamo a questo punto a vedere in che cosa consiste la nazione di spettro la supereterodina in particolare diciamo qual è il principio di funzionamento il principio è quello di provare ad utilizzare un unico filtro passabanda quindi un unico BPF centrato ad una frequenza fissata detta spesso frequenza intermedia in inglese intermediate frequency e quindi trovate il pedice FIF e con una resolution bandwidth sufficientemente piccola in modo tale da garantirci diciamo la discriminazione di toni anche molto vicini tra loro quindi vedete una prima cosa che ha l'analizzatore di spettro è quello di avere di superare le problematiche in qualche modo per esempio dell'analizzatore a sintonia variabile in cui avevate che il BPF doveva essere centrato su una frequenza variabile in questo caso la frequenza è fissa e diciamo lavorando a frequenza fissa sicuramente lo si può anche realizzare proprio costruttivamente in modo molto affidabile con una resolution bandwidth magari molto stritta e quindi che consente di discriminare i toni anche tra loro molto vicini ovviamente diciamo generalmente anche questa FIF è anche un valore abbastanza basso dell'ordine della decina di MHz perché o al massimo una decina di MHz perché a queste frequenze si riescono a ottenere delle resolution bandwidth molto spinte anche al di sotto dell'Hz in più a questo punto però il problema che si pone è ok ma io se ho un filtro passa a banda a frequenza in centrale fissa come faccio di fatto a scorrere l'intero spettro e quindi a ricostruire lo spettro del segnale di ingresso su un certo range di analisi che diciamo potrebbe essere in pratica qualsivoglia allora la soluzione è quello di implementare il principio appunto della supereterodina che immagino abbiate già anche studiato in qualche altro corso e che corrisponde in pratica ad effettuare una traslazione in frequenza dello spettro del segnale in ingresso alla frequenza su cui è centrato appunto il BPF e quindi alla frequenza intermedia ovviamente traslazione di ancora una volta non contemporanea perché ovviamente la resolution bandwidth è stretta e quindi voi vedete solo una porzione del diciamo dello spettro alla volta ma una traslazione che avvenga in maniera graduale di tutto lo spettro del segnale in ingresso da una certa Fmin a una certa Fmax in modo tale da far passare praticamente tutto lo spettro diciamo traslare tutto lo spettro porzione per porzione per sottoporzione per sottoporzione su FIF in questo modo grazie a questi principi in pratica si riescono ad ottenere innanzitutto delle prestazioni costante sull'intero range di frequenza perché per quello che dicevo prima il BPF è sempre centrato ad una frequenza fissa quindi non c'è il problema delle variazioni non c'è un problema significativo di prestazioni non costanti all'interno del range di frequenza o perlomeno non è legato al BPF e in più diciamo la soluzione tutto sommato ha dei costi contenuti rispetto non so alla soluzione del banco di filtri paralleli perché non avete ennubicato diciamo dei rami costituiti dai vari BPF e dai vari rivelatori di inviluppo qual è allora a questo punto la chiave di questo di questa architettura la chiave è in pratica la traslazione in frequenza come avrete avuto modo magari di vedere già in qualche altro corso l'elemento che consente di traslare in frequenza un segnale è il mixer che riceve appunto in ingresso un segnale ad una frequenza FX supponiamo inizialmente una pura sinusoide quindi caratterizzata da uno spettro da una sola riga spettrale e che appunto miscelata attraverso una frequenza prodotta da un oscillatore locale che indichiamo con FLO mi consente di traslare il segnale di partenza identico in ampiezza senza mutarne quindi le caratteristiche in termini di ampiezza alla frequenza FIF appunto che poi sarà quella la frequenza intermedia quindi che significa che in ingresso al mixer abbiamo di fatto due segnali sinusoidali uno a frequenza FX un altro a frequenza FLO e in uscita avremo praticamente un certo numero di componenti spettrali che in realtà sono centrate a tutte le frequenze che soddisfano in pratica questa relazione dove M ed N rappresentano numeri interi giusto per fare una analisi semplificata in questa fase immaginiamo di considerare M ed N pari ad 1 e diciamo supponiamo anche come nel caso specifico che FLO sia maggiore di FX fondamentalmente questa relazione diventa FLO più FX piuttosto che FLO meno FX e quindi fondamentalmente che cosa succede? Che per effetto del mixer nel caso in cui M uguale 1 e N uguale 1 in pratica otteniamo una traslazione della frequenza FX in corrispondenza di generalmente due frequenze FIF meno io ho indicato qui per indicare che abbiamo considerato il segno meno nella relazione FIF più ok? Benissimo questa equazione appunto diciamo è un'equazione proprio di funzionamento del mixer a questo punto quindi se vale questo questa possibilità di traslare lo spettro attraverso il mixer sempre ad una stessa frequenza FIF poi decidiamo se chiariamo un po' meglio se utilizzeremo la FIF meno o la FIF più però immaginiamo che ne stiamo considerando una delle due da un punto di vista di principio di funzionamento che cosa succede? che il mio segnale x di t che avrà un suo spettro come al solito costituito da una forma qualsivoglia e che magari io posso suddividere idealmente in un certo numero di porzioni larghe diciamo rbw in frequenza che anche la stessa rbw ovviamente del filtro a frequenza intermedia quello che accadrà è che all'istante t con 1 di fatto per effetto del mixer e per effetto di come adesso vedremo implementato lo strumento in pratica viene traslato alla frequenza intermedia la porzione diciamo 1 del filtro in ingresso all'istante t2 uguale t con 1 più un certo delta t viene traslato la porzione 2 e così via fino alla porzione iesima fino alla porzione ennesima con il fatto che diciamo grazie a questa traslazione sempre a FIF però di varie componenti spettrali del segnale in ingresso è possibile poi opportunamente ricostruire lo spettro in uscita ovviamente giusto per fare un po' di ragionamenti macroscopici su come si modifica la formuletta in qualche modo che rappresenta questo funzionamento vedete questa volta che appunto la risposta del filtro a frequenza intermedia è fissato appunto ad una frequenza IF costante mentre praticamente ciò che varia è la diciamo componente spettrale del segnale in ingresso che io sto andando mano a mano a considerare in ingresso al filtro BPF grazie però al fatto che sto traslando di volta in volta attraverso il mixer varie porzioni dello spettro andiamo ad approfondire però questo fatto del mixer perché diciamo così di fatto rappresenta un po' il cuore la novità di questi strumenti rispetto al passato perché innanzitutto quando abbiamo fatto questo primo esempio abbiamo immaginato che il segnale in ingresso FX fosse un segnale puramente sinusoidale ma se fosse un segnale caratterizzato appunto da uno spettro che non è puramente sinusoidale ma è costituito da più componenti e quindi in generale che può diciamo appartenere ad un certo range FXmin FXmax vi rendete conto che poiché FIF è fisso per definizione è necessario se io voglio diciamo traslare questo spettro su FIF di volta in volta per coprire tutto questo range è necessario avere ovviamente una variazione adeguata della frequenza dell'oscillatore locale che magari convenzionalmente potremmo dire dovrà variare in un certo range FLomin FLomax ovviamente dipendente in pratica da questa variazione qui del segnale in ingresso dal range di variazione del segnale in ingresso e allora andiamo a capire un pochino meglio da un punto di vista analitico questi aspetti e partiamo al solito dalla relazione che regola il funzionamento del mixer consideriamo ancora una volta MN uguale 1 e in particolare il segno meno della relazione sopravvive diciamo questa equazione è qui e quindi se vado a esplicitarla ovviamente avrò che se FLO è maggiore di FX avrò che questo valore assoluto è FLO meno FX ma se FLO è minore di FX ottengo diciamo quest'altra relazione concentriamo per adesso l'attenzione solo su questa quindi immaginiamo di trovarci nell'ipotesi in cui il costruttore scelga di fare in modo che FLO sia sempre maggiore di FX allora quello che avremo osservando questa relazione è che senz'altro per ogni FX star che potrà appartenere diciamo all'intervallo da dover analizzare del segnale in ingresso esisterà senz'altro una FLO star che soddisfa questa relazione e che appartiene ad un certo range che possiamo chiamare appunto FLO min FLO max tale che appunto diciamo FLO star meno FX star vada comunque a essere uguale ad FIF cioè che significa che qualsiasi sia la componente del segnale di ingresso appartenente a questo range posso comunque identificare un valore di FLO star tale per cui FLO star meno FX star sia proprio pari ad FIF quindi che cosa significa significa in generale che diciamo se sono note FIF e quello è un parametro diciamo del costruttore quindi dello strumento cioè di chi sta progettando lo strumento è un parametro fisso e sono note FX min FX max che potrebbero essere ancora una volta i valori minimi e massimi magari analizzabili con quello strumento quindi diciamo l'intero span di analisi diciamo ammissibile è possibile ovviamente determinare FLO min ed FLO max diciamo quindi in maniera molto banale perché fondamentalmente se io ho un certo range di variabilità delta FX che è dato appunto dalla differenza tra FX max e FX min in pratica mi accorgo facilmente che se devo coprire questo range e quindi FX star apparterebbe a questo range che è largo delta F dovrei avere un delta FLO quindi una distanza fra le componenti massime e minime del mio oscillatore locale cioè fra le frequenze massime e minime che mi dovrà fornire il mio oscillatore locale che è pari esattamente al delta FX di partenza quindi fondamentalmente una volta da un punto di vista costruttivo una volta nota FIF che diciamo arriva sempre da ragionamenti fatti in termini di opportunità pratica e di garanzia di ottenere delle buone risoluzioni e così via poi una volta definito in qualche modo il range che si vuole analizzare dei segnali in ingresso FX min FX max e quindi il delta FX si stabilisce anche quanto vale il delta FLO quindi il range di variazione che deve avere il nostro oscillatore locale per garantirci diciamo l'escursione e quindi l'analisi dello spettro nel range FX min FX max ok e detto questo giusto per fare un esempio numerico molto banale immaginate che appunto FIF sia scelta e fissata a 20 MHz immaginiamo di dover analizzare di poter analizzare un segnale che va da FX min da 10 KHz fino a 100 KHz da quelle relazioni dalla relazione in particolare qui sopra sostituendo una volta FX min e una volta FX max si otterranno FLO min pari a 20.01 MHz FLO max pari a 20.1 MHz per ottenere diciamo la traslazione sempre ad FIF ok ma questo è solo giusto un esempio numerico per capire i concetti che abbiamo diciamo espresso Chima detto questo a questo punto come si può implementare questi principi di cui abbiamo parlato fondamentalmente cominciamo col definire un primo schema blocchi preliminare perché non è poi quello definitivo che semplicemente cerchi di implementare le cose che ci siamo detti fino adesso e quindi che cosa abbiamo abbiamo il solito segnale X di T che potrebbe essere caratterizzato da uno spettro che diciamo appunto appartiene ad un certo intervallo FX min FX max quindi al di fuori di questo intervallo magari lo spettro è nullo va bene dopodiché abbiamo detto che il primo elemento è il mixer il mixer cosa fa abbiamo detto moltiplica quindi trasla in frequenza FX diciamo appartenente a questo range tramite una certa frequenza dell'oscillatore locale ad una frequenza FIF a fare in modo che diciamo il tutto vada a finire su una frequenza FIF a cui è centrato diciamo questo filtro passa a banda abbiamo detto particolarmente performante da un punto di vista di risoluzione selettività e quant'altro e a questo punto è ovvio che se io devo appunto diciamo coprire un range che va da FX min a FX max per quello che abbiamo detto prima devo avere una FLO che non è fissa ma è variabile all'interno di un range FLO min FLO max ma come faccio a ottenere questa variazione attraverso la stessa tecnica che abbiamo visto diciamo nel caso degli analizzatori a sintonia variabile in cui diciamo questa volta la FLO invece di andare a sintonizzare diciamo la frequenza di centro banda del filtro passa a banda va invece a variare la frequenza dell'oscillatore locale in che modo ovviamente attraverso un generatore di rampa che genera un segnale appunto a rampa e che consente di variare in maniera lineare la FLO da un certo valore FLO min fino a un certo valore FLO max ma contemporaneamente il generatore di rampa cosa va a fare va anche a pilotare le placchette di deflessione in pratica di un display le placchette di deflessione orizzontale in modo tale da diciamo far sì che per ogni valore di FLO fondamentalmente venga disegnata la corrispondente porzione di spettro di FIX quindi immaginate che per esempio partiamo da FLO min partendo da FLO min che cosa significa il generatore di rampa starà in qualche modo configurato per far disegnare questa parte dello spettro e FIX min sarà traslata FIF il rivelatore di inviluppo ne rivelerà l'ampiezza e verrà portata sul display dove in corrispondenza però di questa frequenza qui questa frequenza qui sarà quella giusta dello spettro perché ovviamente lo strumento sa bene che diciamo il segnale è stato traslato verso il basso diciamo ad FIF e quindi che deve compensare in qualche modo questa traslazione nella visualizzazione quindi sommandoci diciamo il valore giusto e quindi facendo in modo che parta effettivamente qui da FIX min dopodiché diciamo il generatore di rampa fornirà inizia a salire perché è una rampa quindi fornirà una tensione di riferimento diversa a questa VCO un po' maggiore rispetto a prima e quindi la FLO non sarà più FLO bin ma sarà una FLO più un certo delta F questo delta F diciamo prossimo tipicamente proprio al valore di resolution bandwidth in modo tale da andare a far sì che la componente spettrale che andrà questa volta a essere traslata FIF è la seconda diciamo dello spettro e quindi per lo stesso motivo di prima diciamo il generatore di rampa andando a contemporaneamente anche a a far deflettere diciamo in qualche modo il segnale sull'asse orizzontale consentirà di diciamo far disegnare sul display la seconda porzione dello spettro in ingresso e così via fino ad arrivare diciamo così a coprire tutto il range del segnale in ingresso questi sono diciamo questo è il principio lo schema blocchi preliminare di un analizzatore fatto in questo modo e sicuramente un primo problema che possiamo evidenziare è il fatto che come accadeva per il fil per l'analizzatore basato su filtro a sintonia variabile anche nel caso di questo analizzatore di spettro la supereterodina le singole porzioni di spettro visualizzate sul display sono ottenute in istanti temporali diversi per quello che vi dicevo prima perché che cosa succede che durante l'intervallo di tempo in cui il VCO sta fornendo FLO min all'interno di questo spettro transita diciamo la componente spettrale FX min e quindi è quella che viene rilevata ma poi quando il generatore di rampa fa variare in qualche modo la tensione di riferimento al VCO e quindi la FLO significa che all'interno di diciamo BPF ci sarà la seconda componente ma nel frattempo quindi io sto disegnando lo spettro diciamo in istanti diversi quindi sostanzialmente alla fine della spazzolata io avrò uno spettro che è costituito da magari da n sottoporzioni chiamiamoli così però non tutte non acquisite sicuramente nello stesso intervallo di tempo e quindi che significa che se nel tempo è variato lo spettro quello che sto io vedendo a valle diciamo di questa spazzolata è uno spettro un po' ibrido di tutto quello che è successo in quell'intervallo di tempo corrispondente alla spazzolata quindi soffre degli stessi problemi che diciamo hanno i filtri a sintonia variabile gli analizzatori di spettro a sintonia variabile però c'è in realtà un altro problema ed è il motivo per cui poi da quello schema blocchi preliminari si arriva ad uno schema blocchi un po' più definitivo che è legato alla cosiddetta ambiguità del principio supereterodino e cioè immaginiamo di avere in ingresso un segnale a frequenza fx con 1 uguale 980 MHz e di aver scelto per esempio fif ancora una volta 20 MHz allora sempre dall'equazione del mixer deriva che la FLO che mi consente di far traslare a 20 MHz la componente a 980 MHz deve essere esattamente di 1 GHz ok e quindi io mi vado a disegnare a rappresentare questa situazione diciamo sulla slide ma giusto per capire un pochino dove ci troviamo con le varie frequenze e le varie righe spettrali e l'effetto appunto del mixer è quello di spostare di traslare attraverso questa equazione la fx con 1 ad fif e fin qui è tutto quello che abbiamo detto fino adesso però c'è un attimo un problema se riguardiamo diciamo la relazione e ci focalizziamo ancora per semplicità sul caso di M ed N uguale 1 ci ricordiamo ci dobbiamo ricordare che noi fino adesso abbiamo considerato questa relazione ma in effetti ad fif in qualche modo verrà anche accadere generalmente una frequenza che fx una frequenza in ingresso al segnale al sistema che soddisfa questa relazione quindi che cosa significa significa che se io ho per esempio fx2 una certa fx2 che potrebbe essere da un lato una stessa componente del segnale in ingresso quindi che magari non era una singola sinusoide ma aveva più componenti oppure semplicemente una componente di rumore quindi qualcosa che non c'entra col segnale che vogliamo analizzare ma che ci troviamo a captare in qualche modo per effetto di qualche rumore che cosa succederà? succederà che se questa frequenza è centrata a 1.02 GHz fondamentalmente anche questa se la vado a sostituire qua dentro 1.02 meno 1 GHz fa ancora una volta 20 MHz quindi che cosa significa? significa che se io vado su quest'asse scopro che c'è un'altra frequenza Fx che dista esattamente FIF come distava Fx1 da FLO ma questa volta Fx2 è maggiore di FLO che viene riportata contemporaneamente alla Fx1 sulla stessa frequenza internet questo fatto che avvenga contemporaneamente è chiaro perché fondamentalmente dipende da dove sta FLO quindi una volta che io sto in un certo intervallo di tempo della mia spazzolata in cui non so FLO ha raggiunto un certo valore FLO star diciamo poi qua dentro vado a particolarizzare queste relazioni e ottengo non so FLO star meno un certo Fx star e qua un F' X star meno FLO star dove F' X star sarebbe questa qui che qua abbiamo chiamato Fx2 quindi che significa che contemporaneamente nello stesso istante su FIF invece di starci solo la frequenza che io pensavo di dover analizzare ci sta diciamo anche una frequenza Fx2 che viene detta anche frequenza immagine di Fx1 e ovviamente questo fatto qua determina la cosiddetta ambiguità del principio supereterodina perché diciamo ovviamente andando a traslare un segnale alla stessa frequenza FIF significa che quella che poi sarà l'uscita del filtro a frequenza intermedia FIF e poi quindi quello che ci sarà a valle del rivelatore di inviluppo purtroppo terrebbe conto terrà conto non solo di quello che volevo analizzare cioè il segnale a frequenza Fx1 ma anche di una componente che diciamo deriva semplicemente da dalle equazioni del mixer e quindi da questa frequenza cosiddetta immagine allora il tentativo che si deve fare nel migliorare lo schema è quello di cercare di rigettare Fx2 per evitare che venga traslata contemporaneamente diciamo su FIF quando lo è Fx1 e quindi evitare appunto che poi si vadano a sommare in maniera strana queste due componenti dando luogo ovviamente a delle misure poco affidate e allora diciamo come si fa allora diciamo tutti i dettagli di come si fa li vedrete sicuramente molto meglio nel corso che farà il professore media al secondo livello però diciamo noi qua prendiamoci un po' la sintesi di quelli che per anticiparvi un po' di cose ma semplicemente per non appesantire troppo diciamo la trattazione di questo argomento si può dimostrare che se io ciò che Fx appartiene a un certo intervallo 0 Fmax e le scelte di FIF uguale 2Fmax e un FLO uguale appartenente scusatemi al range 2Fmax 3Fmax consente di rigettare la cosiddetta banda delle frequenze immagini perché ovviamente quel ragionamento che abbiamo fatto sulla singola frequenza va poi diciamo esteso considerando il fatto che un ingresso potrebbe avere diciamo appunto uno spettro all'interno del range Fx min Fx max non in corrispondenza solo di una certa Fx con 1 e quindi fondamentalmente cosa si diciamo si può dire che per rigettare la banda delle frequenze immagini una volta che io ho che Fx è limitato fino a un certo valore Fmax poi la scelta di FIF ed FLO riportati in questa slide mi consente di rigettare le bande immagini ma questo punto che cosa significa da un punto di vista poi pratico significa che per devono necessariamente limitare in banda diciamo il segnale cioè la Fx deve essere non superiore ad Fmax se poi voglio che tutte queste scelte qui mi consentano di rigettare le le frequenze immagini e quindi la banda immagini e allora che cosa significa che prima di traslare il segnale attraverso il mixer è necessario limitarlo in banda ovvero utilizzare un filtro passo a basso con frequenza di taglio per esempio Fmax in modo tale da garantire che sia realmente indipendentemente da tutto il segnale limitato ad Fmax anche se dovessero capitare componenti di rumore anche se dovessero capitare l'analisi di un segnale che potrebbe andare oltre una mia prevista Fmax eccetera l'effetto del filtro è quello di tagliare tutto oltre Fmax e quindi di far sì che con queste scelte si può dimostrare che la banda immagine è separata dalla banda del segnale e quindi che non accade mai il problema che mettevamo in evidenza qualunque poi siano anche i valori di M ed N perché noi adesso abbiamo fatto degli esempi semplificativi in cui M e N erano 1 ma poi quel ragionamento ovviamente potrebbe essere diciamo esteso anche ai valori di M e N interi diversi da 1 e diciamo con queste impostazioni potreste dimostrare che appunto si risolve questo problema della ambività del principio a supereterodino a questo punto quindi cosa diventa lo schema blocchi finale che non è quello reale ancora diciamo che studierete come vi dicevo prima al corso del secondo livello perché questo è ancora uno schema semplificato se volete però notate come rispetto a prima innanzitutto analizziamo tutto ciò che sta a sinistra del mixer mentre prima il segnale entrava direttamente nel mixer adesso entra in quella che io ho chiamato sezione a radiofrequenza che prevede innanzitutto diciamo quel filtro passo a basso di cui dicevamo prima fate attenzione a un filtro passo a basso che però non ha funzione di anti-aliasing perché lo strumento qui non c'ha una conversione analogica digitale quindi diciamo non c'è una non lo chiamiamo filtro anti-aliasing è semplicemente un filtro passo a basso e però prima del filtro passo a basso c'è un blocco generalmente di attenuazione che serve a fare in modo da attenuare i segnali le ampiezze eventualmente dei segnali in ingresso perché tutto diciamo ciò che viene a vale in particolare mixer e filtro a frequenza intermedia sono generalmente oggetti abbastanza delicati e anche abbastanza costosi proprio perché gli si chiede delle prestazioni molto spinte e quindi diciamo onde evitare che segnali di intensità eccessiva possano danneggiare questa questi blocchi generalmente si utilizza un attenuatore attenuatore radiofrequenza che sta a indicare che è un attenuatore che ha una larga banda cioè va tutta questa sezione che noi chiamiamo radiofrequenza è una sezione che deve avere non deve introdurre limiti di banda al resto dello strumento quindi che significa significa che se per qualche motivo io devo realizzare un'analizzazione di spettro che mi consente di analizzare da un kilohertz a per esempio 3 gigahertz io devo garantire che questi blocchetti qua siano in grado di offrire delle prestazioni diciamo tutto sommato costanti sulla banda da un kilohertz a 3 gigahertz e vi garantisco che ovviamente non è banalissimo non è semplice ecco perché poi c'è una dipendenza delle prestazioni dell'analizzazione di spettro anche un po' dalla frequenza ma non è legata diciamo a questo problema qua perché per quello che abbiamo detto prima poiché il BPF lavora diciamo a frequenza intermedia fissa quello sì che ci darà una prestazione tutto sommato costante indipendentemente da tutto quello che invece può creare qualche problema è questa sezione qua che dovendo avere una risposta in frequenza molto ampia è ovvio che potrebbe avere un guadagno non costante un'attenuazione non costante e così via ok? quindi diciamo questo per quanto riguarda la sezione radiofrequenza poi per quanto riguarda invece il resto della dello schema in che cosa è variato rispetto allo schema preliminare è variato perché nella sezione IF oltre al filtro a passabanda viene anche diciamo introdotto un amplificatore a frequenza intermedia che è un amplificatore a banda stretta e quindi con ottime prestazioni in termini di guadagno che ha lo scopo eventualmente di amplificare il segnale dopo che era eventualmente stato attenuato per salvaguardare diciamo il mixer quindi per migliorare ovviamente il rapporto segnale-rumore in ingresso a questo filtro dopodiché lo schema continua con il classico rivelatore di indiruppo e in più qua vedete che prima di collegarsi al display che poi è sempre collegato al generatore di RAM che a sua volta è collegato al VCO con lo stesso principio che abbiamo detto prima c'è un'altra novità è questo videofilter che cos'è il videofilter è come dice la parola stessa un filtro video che ha il solo scopo di andare a migliorare la traccia quindi a pulirla a renderla meno rumorosa soprattutto quando magari si stanno analizzando dei segnali molto deboli di ingresso e che magari sono prossimi al rumore di fondo dello strumento e quindi che potrebbero essere confusi con il rumore di fondo diciamo termico dello strumento stesso questo filtro video va a cercare di filtrare quindi di eliminare queste componenti frequenziali sulla traccia quindi già a valle quindi sull'inviluppo per cercare di migliorare la visualizzazione e quindi con questa ovviamente anche la qualità delle misure in generale da un punto di vista di schermo cosa mi aspetto di trovare sul display di un analizzatore di spettro praticamente gli stessi parametri che abbiamo visto di un analizzatore a sintonia variabile con il fatto che diciamo lo sweep time abbiamo detto rappresenta quella il tempo necessario allo strumento per compiere l'intera spazzolata dallo start fino allo stop frequency tenete presente poi che questo schema in che modo va a complicarsi va a complicarsi sicuramente diciamo con il fatto che gli strumenti moderni hanno più filtri di risoluzione quindi in realtà è come se qua avessero un minimo di parallelismo che consenta di avere comunque più resolution band da seconda di quello che ci interessa e quindi analizzare e quindi fondamentalmente sul display dello schermo troverete spesso indicata anche la resolution banded che state andando a utilizzare proprio per farvi capire quali sono i parametri di risoluzione in frequenza con cui è configurato in quel momento lo strumento e tipicamente è un parametro che si può andare anche a variare nel caso ce ne fosse bisogno ultimissimi ultimissime considerazioni sul diciamo su alcuni sul significato di alcuni parametri di funzionamento nelle zone di spettro sono lo span di analisi l'abbiamo più volte detto rappresenta l'insieme delle frequenze analizzate lo sweep time spesso indicato anche con st sui display degli strumenti rappresenta il tempo necessario alla singola spazzolata per coprire l'intero span di analisi la risolution bandwidth e poi c'è sicuramente un tempo che non viene mostrato diciamo sul display ma che è importante in generale considerarlo è che il tempo di permanenza della singola componente frequenziale all'interno del filtro passa a banda centrata a frequenza FIF ovviamente cosa stiamo dicendo che come abbiamo più volte detto l'FLO varierà all'interno di un certo range per effetto di questo FVCO ma per ogni valore di FLO all'interno di questo range ci rimarrà per il tempo diciamo necessario affinché il segnale passi attraverso questa catena diciamo a frequenza intermedia e arrivi al rivelatore di inviluppo questo delta T questo tempo necessario di permanenza del segnale all'interno di questo blocco dipende molto diciamo dalla resolution bandwidth scelta generalmente più è stretta la resolution bandwidth più sarà necessario attendere affinché questa queste apparecchiature vadano al regime quindi affinché poi il segnale possa ritenersi stabile e quindi a quel punto diciamo rilevabile in maniera affidabile dal rivelato di inviluppo quindi che cosa significa che generalmente quando noi per esempio andiamo eventualmente a forzare delle resolution bandwidth più strette diciamo rispetto a quelle che magari ci propone lo strumento perché dobbiamo fare delle analisi più approfondite con una risoluzione migliore in frequenza quello che poi automaticamente farà internamente lo strumento è quello di aumentare questo tempo di permanenza della singola componente all'interno del filtro FBPF e quindi se aumenta questo tempo quello che mi aspetto che succederà è che aumenterà anche lo sweep time perché se lo sweep time è il tempo necessario a completare l'intera spazzolata da FXmin a FXmax ovvero da FLOmin a FLOmax ovviamente se ad ogni delta F che io do devo aspettare un delta T maggiore per consentire al BPF e all'amplificatore a frequenza intermedia di andare a regime aumenterà anche lo sweep time complessivo che altro non è che fondamentalmente il diciamo questo valore del tempo di permanenza singolo moltiplicato per il numero di punti in pratica visualizzabili sullo schermo e quindi che corrisponderà potenzialmente alle componenti spettrali che voglio andare a vedere quindi fondamentalmente in generale avremo che lo sweep time è inversamente proporzionale alla resolution bandwidth e quindi più si abbassa questa resolution bandwidth non solo inversamente proporzionale è addirittura in forma al quadrato al denominatore quindi una riduzione drastica della resolution bandwidth aumenta di parecchio diciamo lo sweep time e questo che problema porta? porta non solo un problema di tempi di analisi che magari si allungano in alcuni casi per scandire uno spettro se voi chiedete delle resolution bandwidth magari dell'ordine dell'hertz lo strumento vi dice ok te lo faccio ma lo sweep time diventa tipo di 60 secondi 10 secondi cioè secondi che sono delle ere rispetto ai segnali moderni telecomunicazione che durano pochi microsecondi millisecondi e così via per cui diciamo che cosa significa significa che se io scelgo una resolution bandwidth troppo stretta lo sweep time è costretto ad aumentare e di conseguenza quello che andrò a vedere sullo schermo è uno spettro che come vi dicevo prima vi diceva all'inizio uno dei problemi di questo strumento non sarà uno spettro che si riferisce magari ad un segnale che riesce a seguire scusatemi le variazioni dello spettro di un segnale non stazionario in ingresso perché appunto l'intera spazzolata durerà magari qualche secondo mentre lo spettro del segnale in ingresso meriterebbe un aggiornamento ogni millisecondo ogni decina di millisecondi visto che magari un segnale con spettro non stazionario quindi attenzione poi come al solito dell'uso di strumenti di questo tipo a bilanciare questi aspetti cioè non sempre avere una resolution mandate troppo stretta mi porta a benefici mi porta a benefici in termini di risoluzione in frequenza benissimo ma mi serve per l'applicazione specifica perché se non mi serve è meglio avere delle resolution mandate un po' più ampie che mi consentono di avere degli sweep time un po' più bassi e quindi magari di seguire un po' meglio le eventuali variazioni dello spettro sul segnale non stazionale infine concludiamo diciamo molto rapidamente dicendo che l'analizzazione di spettro a supereterodina ovviamente come tutti gli strumenti di misura è caratterizzato da delle prestazioni metrologiche in termini in particolare di accuracy e quindi da cui poi è possibile dedurre l'incertezza di misura e come è lecito aspettarsi ciascun blocco dello schema dello strumento va a incidere va a influire va ad introdurre diciamo potenzialmente una causa di incertezza quindi quanto più è complesso come dire lo strumento quindi quanti più blocchi sono presenti tanto più mi aspetto che l'incertezza cresca ma volendo diciamo macroscopicamente dare delle indicazioni sicuramente se io considero tutta la parte che c'è a monte della zero di spettro e quindi la sezione a radiofrequenza ed il mixer poiché lavorano come vi dicevo prima sull'intero range di frequenze dello strumento c'è da attendersi che non abbiano una risposta in frequenza piatta e quindi conseguentemente che non abbiano diciamo che possano introdurre una incertezza causato dal fatto appunto che la risposta in frequenza magari è non piatta presenta del ripple o comunque diciamo una risposta non piatta in banda così come l'incertezza sui guadagni della parte IF è senz'altro presente perché poi è tutta circuiteria che ovviamente potrebbe diciamo non non avere sicuramente è tutta fortunatamente circuiteria che lavora ad una frequenza intermedia molto specifica e quindi diciamo più facile da progettare anche in termini di prestazioni però in ogni caso non è detto che i guadagni siano esattamente quelli previsti e quindi diciamo potrei avere un po' di incertezza sui guadagni così come ovviamente un'altra sorgente di incertezza potrebbe essere l'instabilità della frequenza dell'oscillatore locale perché ovviamente questa frequenza è ottenuta attraverso senz'altro un reference oscillator che qui per motivi di spazio e di diciamo di semplicità non è stato riportato ma comunque in ogni caso prevede ancora una volta diciamo un generatore di rampa e quindi una circuiteria un VCO che si basa come dicevo prima su un oscillatore di riferimento ma che comunque poi deve andare a variare dei parametri circuitali e così via e quindi ci saranno un po' di incertezze e un po' di instabilità sulla FOL che potrebbero incidere soprattutto laddove io dovessi andare a misurare le ampiezze scusatemi le frequenze delle componenti spettrali mentre invece gli altri elementi di incertezza che abbiamo detto prima andrebbero ad incidere principalmente sulle incertezze in termini di misure di ampiezza detto questo direi che con questa parte sugli analizzatori di spettro diciamo a principio principalmente analogico abbiamo terminato poi diciamo domani ci vediamo in laboratorio per le esercitazioni e giovedì scusatemi completeremo questa analisi nel dominio della frequenza degli strumenti nel dominio della frequenza analizzando scusatemi il gioco di parole l'FFT analyzer e quindi il principio di funzionamento dell'FFT analyzer avete qualche domanda? manca solo un minuto non so se diciamo avete qualche dubbio ok allora se non ci sono chiarimenti domande direi di stoppare qui la lezione e di vederci domani direttamente in laboratorio con i gruppi ovviamente convocati arrivederci allora e buona prosecuzione a l'abbiamo a l'abbiamo l'abbiamo a l'abbiamo a